Attenzione, attenzione a tutti i cittadini, attenzione, l'epidemia continua a mietere vittime tra la popolazione del nostro paese, l'unico modo per combattere l'epidemia è la vaccinazione obbligatoria. Tutti i cittadini di tutte le età sono tenuti a presentarsi per la vaccinazione contro l'epidemia presso i centri appositamente istituiti dalla Croce Rossa per la campagna antiepidemica. Chi contraviene incorre nell'articolo 820. Sta arrivando, sta arrivando. Prima è arrivato al cancello, passo. La macchina è nel pianone, passo. Ricevuto a chiudono. Benvenuto. Benvenuto, grazie. Sono il vicequestore Arras, distaccato dal ministero fino alla fine. La fine di che? Fino alla fine. Prego. Grazie. Grazie.